Vieni, tutti i più ci stai a fare, ma se non vedi a sapere come fare il finale, sarà un'evento più eccitata dell'anno, sono sicura. non sopra il cavalluccio e andate sopra il cavalluccio si trocca la mia domani ho scritto un messaggio sembra che la vado a prendere quando li metterai? forse quando li metterai dove? dove? senza aver un pezzo un pezzo un po' di un momento curioso e che c'è sta? andiamo brava vai no stai facendo no stai facendo no stai facendo non vai vai stavar non vai vai stai facendo un bacetto ecco brava ecco brava Grazie a tutti. Grazie a tutti.